Anche ieri sera gli autobus che garantiscono gratuitamente il servizio navetta hanno viaggiato pressoché vuoti con pochissime persone a bordo. Sono state attivate due linee, la numero 2 ZTL parte dalla via Ilio per percorrere la via Miraglio-Staite e via Regina Elena per poi fare il giro della via dei Ranuncoli, via Carolina, piazza Generale Scio e tornare alla marina da via Le Duca d'Aosta. La linea 10 invece parte da piazza Vittorio Emanuele per percorrere le vie Palmerio-Abate, via Osorio, via 30 Gennaio, Corso Italia, Marina per passare dall'Azzaretto e poi entrare nella via Carolina in ZTL da Corso Vittorio Emanuele, attraversare la via Libertà e il lungomare Dante Alighieri, arterie che sono chiuse al traffico. Entrambi gli autobus per tutta la serata hanno garantito le corse che sono del tutto gratuite per i cittadini ma con pochissimi passeggeri. Il traffico lungo le arterie perimetrali della ZTL a partire da via Miraglio-Staite e via Regina Elena è comunque apparso scorrevole come nella zona di piazza Generale Scio. A presidiare lo sbarramento all'inizio di Corso Vittorio Emanuele, gli agenti della Polizia Municipale di Trapani e volontari delle associazioni di protezione civile posizionati davanti alle transenne nelle varie traverse d'ingresso alla ZTL. Chiuso al traffico anche il tratto iniziale del lungomare Dante Alighieri, ovvero la parte compresa tra Piazza Mercato del Pesce e Palazzo Dalì, diventata una grande isola pedonale davanti al mare con vista sul versante settentrionale del centro storico. In questa fase di avvio tutto è comunque apparso molto ordinato, senza incolonnamenti né traffico in tilt. Come ovvio si è trattato delle prime due serate. Il banco di prova sarà per il fine settimana già a partire da questa sera, con la presenza, come consuetudine già di venerdì, di maggiori persone per il centro storico. Per le prime settimane la macchina è ancora tutta da collaudare. C'è poi ancora da predisporre il posteggio di Via Ilio, dove ancora non ci sono né le tabelle né i parcometri e le strisce blu per la sosta a pagamento con la tariffa agevolata di 10 centesimi l'ora. Sicuramente gli autobus che svolgono il servizio navetta con la ZTL possono giocare un ruolo strategico per andare a decongestionare il traffico alla marina, dove ci sono comunque posteggi a disposizione di tutti i cittadini con le normali tariffe gialla e rossa, mentre dentro il perimetro della zona traffico limitato possono posteggiare solo gli autorizzati, ovvero i residenti e chi ha necessità per motivi di lavoro, i primi gratuitamente per la prima macchina e poi con un abbonamento agevolato a 10 euro al mese, i secondi invece a pagamento con tariffa di 1,50 euro ogni mezz'ora oppure soffrendo degli abbonamenti di 50 o 100 euro al mese in base alle loro esigenze, sempre se autorizzati. Fermo restando la possibilità di posteggiare fuori dal perimetro della ZTL con le tariffe applicate a tutti, 50 centesimi l'ora in quelle gialle, 80 in quella rossa, oltre che quelle a 10 centesimi a Piazza Vittorio e via Cristoforo Colombo e in via Ilio non appena sarà attivato il posteggio con collegamento attraverso il servizio di bus navetta così come previsto nelle ordinanze firmate dal sindaco Giacomo Tranchida.